Allora oggi procediamo con un misto brace di pesce e verdure. Abbiamo le seppie del nord atriatico, franci di pesce spade e gamberoni. E poi li uniamo con zucchine, peperoni e melanzane che condiremo al modo giusto. Procediamo. Allora i gamberoni, giusto una scottata iniziale, destra, sinistra, veloce, veloce, per evitare che si dilucino. Eh sì, profumo eccezionale. Ecco qua, ecco qua. Pesce spade idem, carne molto delicata, quindi proprio una cosa veloce. Se no la carne si secca e non viene bene. Allora. Giriamo con la seppia. Ecco qua. Perfetto, perfetto, perfetto. Il pesce naturalmente subito si è cotto, cottura molto veloce. E abbiamo aggiunto altre verdure e terminiamo il piatto. Poi una giratina veloce alle nostre verdure e siamo quasi pronti. Piatto pronto. Condito con una salsina di olio extravergine, aglio, un po' di mentina fresca tritata e rosmarino per abbellire che non fa mai male. E può essere servito. Grazie. Grazie. Grazie.